Apre di Sesamo, una nuova trasmissione di Teleweb Vision Napoli Oggi Sesamo è alla ricerca di buone occasioni commerciali Tra i commercianti aderenti all'Associazione Commercianti di San Giovanni I macellai Hanno il merito di porre l'accento Su un mestiere che la grande distribuzione vuole disperdere Mestiere che si distingue per col fascino Tra sangue, salome appiesi e bistecche imponenti Che rende l'atmosfera della macelleria qualcosa di magico Molti macellai abbinano la macelleria con la rastricceria Dove è possibile acquistare i cibicotti Tipicamente e soprattutto arrusti Ciò che fa la macelleria di Luigi Barun a Prano È accostare il crudo al cotto Pronto per servirlo a tavola sotto forma di arrusto Grazie a tutti Grazie a tutti